Siamo qui con il Presidente Biasillo, numero uno della Ginnastic Fondi. Presidente, intanto quanto è bello vincere sul proprio campo in una partita del genere? Beh, quando si vince intanto è sempre bello, sia in casa che fuori casa. Penso che il sapore di una vittoria casalinga è sempre speciale. Portare in alto i colori, il nome della città è sempre sintomo e stimolo di orgoglio per noi. Ci giochiamo le partite una ad una, cercando di prepararle volta per volta. I ragazzi li ho visti molto concentrati, stanno bene, in forma, girano parecchio, corrono. E questo penso sia stato anche poi l'elemento che ci ha permesso di portare via i tre punti alla compagine ospite. Quindi siamo veramente felici, era una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra di qualità. Però il mister Paluzzi, grazie alla sua esperienza e grazie anche alla buona volontà dei ragazzi che hanno questa settimana svolto degli allenamenti oltre gli orari, anche con tempi più lunghi, ha preparato questa partita in modo ottimo e i risultati poi alla fine ci hanno dato ragione. Mister Angeletti, eravamo rimasti con una sconfitta con la Pontina, siamo qui a fondi. Un altro KPO, intanto com'è l'umore in casa Latina? È chiaro, l'umore quando si perde purtroppo non è mai buono, siamo venuti qui sapendo che era una buona squadra, quindi su un campo difficile, ce la siamo giocata per tutto il primo tempo, peccato che abbiamo preso colla al 31esimo, quindi il primo tempo abbastanza equilibrato, anche se loro sotto il profilo del passo erano un po' più veloci di noi sicuramente, però ce la siamo giocata fino all'ultimo, poi al secondo tempo siamo entrati un po' più concreti, ma la prima palla che abbiamo sbagliato ci hanno fatto ancora colla. Peccato perché alla fine forse il pareggio era più giusto, però il calcio è questo e si accettarne, bisogna continuare a lavorare e vedere dove sbagliamo, dove possiamo migliorare. Vedendo il vostro calendario avete incrociato le più forti di questa Serie C2, intanto l'impressione che si è fatta su Ceriara, Ginnastic, anche Città di Cisterna? Ma guarda, ti devo dire, il Ginnastic lo conoscevamo, insomma, due o tre anni che sta a questi livelli, quindi era già una buona squadra, quindi comunque sarà una delle squadre che punterà al titolo finale sicuramente. Poi sai, il calcio ci vuole tempo, i cavalli si vedono all'arrivo, quindi bisogna aspettare, perché poi siamo alle prime battute, quindi siamo alla quinta giornata. È chiaro, qualcosa già si vede già, però noi siamo un po' indietro, cercheremo di recuperare. Proprio per questo in casa Sentori adesso cosa bisogna fare per uscire da questo tunnel? Il calendario adesso dovrebbe essere leggermente più alla portata? Ma guarda, io il calendario alla portata non ci credo mai, sono tutte da giocare, abbiamo visto sabato scorso. Ma guarda, le occasioni, soprattutto in fase conclusiva, sia al primo tempo che è stata una buona situazione, l'abbiamo sfruttata, anche al secondo tempo, almeno altre due volte, siamo andati lì sulla riga di porta, non l'abbiamo buttata dentro, quindi un paio di parate anche del portiere loro si è superato, quindi alla fine abbiamo concluso, forse un po' di meno di loro, perché loro chiaramente essendo in vantaggio sfruttavano qualche ripartenza in più, è fisiologico nel calcio a cinque, gli attacchi per riprendere la partita e loro alla prima palla ti fanno secco. Stefano Scala per Mondofuzza TV